Si aspettava per oggi ma slitterà ancora la firma relativa allo sblocco del turnover nella sanità pugliese. Il 10 settembre infatti era il giorno limite entro qui inviare a Roma le richieste contenute nel piano operativo che dovrà essere valutato dal Ministero della Salute per il quale si aspetta un ok definitivo che tuttora non c'è. Attendiamo la convocazione del tavolo ma non abbiamo ancora una data, spiega Vincenzo Pomo, dirigente regionale dell'area salute e questo nonostante il 23 luglio scorso siano già stati certificati sia l'equilibrio di bilancio delle asla regionali sia la radicalità del processo di riqualificazione del sistema sanitario facendo passare la valutazione della Regione Puglia dai 70 punti del 2010, 123 del 2011. Le valutazioni però vanno distinte e Poma spiegare che il tavolo massicci valuta la tenuta dei conti, ha dato il via libera alla francatura dal piano di rientro e dal blocco del turnover ma perché questa diventi operativa dovrà essere il Ministero della Salute a richiamarci a Roma e a dirci quanto della nostra proposta contenuta nel piano operativo sarà approvato. Tradotto significa che le richieste inoltrate dalle asla a Bari e da questa a Roma rimangono sospese fino a data da destinarsi e nel piano operativo infatti che contenuto il triplice asse necessario dare respiro agli ospedali, sblocco del turnover, completamento del piano assunzionale, altre 1600 unità tra medici e infermieri e la liberazione di risorse per ulteriori 120 milioni di euro. Per lecce i numeri sono non di poco conto, sono 353 le unità che mancano all'appello. Si tratta di 93 infermieri, 102 os, 15 figure apicali tra medici, veterinari e direttori di distretto, oltre a 114 dirigenti medici. Equivalgono alle mancate sostituzioni di pensionamenti di un anno. Certo, è da precisare, si parla sempre di richieste di personale ma non è scontato che arriverà la copertura totale dei posti vacanti.